Non c'è legalità, se non c'è quotidianità, se non c'è impegno, ma come dice Rosario Olivatino, se non c'è credibilità. Voglio dire questo perché dopo 20 anni, da quando abbiamo pensato di ideare proprio il cammino culturale del Parlamento della Legalità Internazionale con l'allora primo presidente onorario, il giudice Antonino Caponnetto, arrivare adesso di nuovo ad Agrigento e ricevere, dopo aver avuto la comunicazione cartacea dell'evento, un premio in prima edizione, il premio internazionale Antigone Giustizia e Legalità ha riempito di gioia e di gratificazione il cuore di tutti i componenti del Parlamento della Legalità Internazionale. Sì è vero, l'ho ritirato io come presidente, ma un Casa Parlamento della Legalità ha ciò che è di uno e di tutti. Quindi questo premio in prima edizione è conferitoci proprio a pochi distanti dalla Valle dei Templi, di quel piano San Gregorio dove il 9 maggio 1993 Giovanni Paolo II lanciò l'anatema contro la mafia, no? Verrà una volta quel giudizio di Dio. E quando l'ho ritirato devo dire che mi sono commosso perché a consegnarmelo è stato proprio Sua Eccellenza Monsignor Enrico Dal Covolo già rettore della Pontificia Università del Laterano, Città del Vaticano, dove io peraltro ho studiato, ho completato i miei studi di teologia e poi fatta la specializzazione all'Antoniano. E riceverlo da lui accanto ad altre illustre personalità in collegamento con centinaia di scuole mi ha commosso perché è come se avessi risentito nelle mie orecchie quella frase del giudice Antonino Caponnetto per me, non nonino, il quale ebbe a dire una cosa molto bella. Dietro la barra di Paolo Borsellino il nonno disse è tutto finito. Poi mentre eravamo dentro una macchina blindata disse nonno ma è realmente tutto finito? ce la vogliamo dare vinta a questi carnefici di Cosa Lora, a questi che con il consenso di colletti bianchi sanno mettere tritolo ovunque, in maniera indisturbata, no? E allora il nonno disse no, non è tutto finito perché allora non ci arrivavano i mail o whatsapp, c'erano delle lettere. Dobbiamo svegliare le coscienze, vedete non c'è bisogno ogni 23 maggio, 19 luglio, 5 settembre, e commuoverci, non commuoverti ma muoviti, agisci, rendi onore e merito a Giovanni, a Francesca, a Vito Schifani, a Paolo Borsellino, a tante vittime che non volevano morire da eroi, forse volevano morire normali nei loro letti abbracciati dall'affetto dei loro cari. Sono morti perché erano soli e allora questo premio internazionale antico nei giustizia e legalità lo dedico a tutti coloro che dinnanzi al cospetto di Dio, non al cospetto degli uomini, sanno di avere una coscienza libera, pulita, onesta e sono credibili.